Quando il Fondo IOTA ha ereditato il Milan, quando è subentrato alla gestione disastrosa di Yangong Li, mi sono andato a documentare, essendo un grande appassionato di business, un grande appassionato in ambito finanziario, un grande appassionato di management, mi sono andato a documentare per capire chi ci fosse dietro al Fondo IOTA, come opera il Fondo IOTA, con quali strategie e quali sono anche i feedback e la reputazione che ha il Fondo in giro per il mondo. E ho sempre trovato e riscontrato sempre pareri positivi, perché il Fondo IOTA agisce molto con strategie, agisce sempre con molta etica, con molta professionalità e soprattutto con idee innovative, con molte disruption, come si dice in ambito aziendale, quindi con innovazione che cambia radicalmente il mercato, cercando di andare a essere pionieri in alcuni settori, negli investimenti, cercando sempre però di mantenere una reputazione sempre molto alta. E quindi questo conferma l'ottimo trend del Fondo IOTA, che ha chiuso in 2021 davvero da protagonista. Leggiamo insieme adesso un comunicato, un testo, un articolo che noi di rubrica rossonera, il nostro collaboratore Andrea Spoto ha redatto e poi lo commentiamo insieme. Lo scorso anno è stato estremamente positivo per il Fondo IOTA, secondo la graduatoria estiliata da LC Investment e riporata dai Financial Times, è stato tra i top 20 hedge fund per rendimento, conseguendo profitti per 6 miliardi. Inoltre è tra i top 10 per guadagni dalla data di creazione nel 1997, con 39,3 miliardi di euro. Il fondo di proprietà di Paul Singer rientra nella categoria degli hedge fund, ossia quelli che gestiscono risparmi e strumenti finanziari con l'obiettivo di incrementarne il valore, per poi ottenere dei rendimenti alti e di conseguenza guadagni elevati. Il fondo statunitense ha ottenuto diversi successi finanziari, come quando acquistò un'ampia porzione di debiti derivanti dal fallimento di Lehman Brothers. Anche l'acquisto in Milan si è fatto con l'obiettivo di aumentare il valore della società per poi venderla a un prezzo maggiore. A Evan Gazzini si è stato l'uomo scelto per realizzare questo scopo. Il dirigente sudafricano sta potenziando il club con l'acquisizione di figure professionali e l'introduzione di nuove aree strategiche. Inoltre sta portando avanti una serie di strategie e iniziative volte anche esse a valorizzare club che dovrebbero culminare con la costruzione del nuovo stadio. Il tutto svolto all'interno di una gestione improntata ad aumentare i ricavi e a contenere i costi, seguendo il principio di sostenibilità. Quindi il fondo Iliott opera in questo termine con economicità, lo dico spesso, con l'aumentare i ricavi e contenere i costi. In realtà contenere è una parola, possiamo dire, incompleta perché il fondo Iliott vuole massimizzare, vuole portare efficienza. Perché pensate che il Milan quando fu acquistato dalla gestione del fondo di Yangon Gli, ma anche negli ultimi anni di Gagliani, aveva un monte in gaggi ben superiore a quello attuale, ma i risultati non arrivavano. Non era neanche un Milan competitivo per i piani alti della classifica. E quindi questo ovviamente bisogna che sia congruo, bisogna che sia coerente quanto investo e i risultati. Il Milan e il fondo Iliott vuole trovare sempre questo equilibrio, investo e porto risultati. Porto risultati nei singoli che poi si trasformano anche in una prestazione collettiva. Investo 28 milioni per Tomori, ma il rendimento è pari o superiore, non deve essere pari o inferiore. E questo è un aspetto molto importante. Io sono convinto, e poi lo diremo anche nel video della riflessione a delle 21 di questa cosa. La sconfitta di ieri, e mi collego un attimo in ambito tecnico, ha portato tanti malumori, ha portato tanti a riflettere, dicendo non investe il fondo Iliott, non ci fa vincere. Secondo me l'unica cosa che è stata sbagliata, devo essere sincero, è stata quella di parlare di Scudetto. Bisogna per vincere, serve un percorso, servono degli anni, tutti i ragazzi sono giovani, gli attaccanti hanno una certa età, serve un progetto. Quest'anno io personalmente vorrei continuità. La continuità c'è stata nella conferma allenatore, nel confermare molti giocatori. E sarebbe molto importante tornare in Champions, l'anno prossima e saranno ancora più competitivi per fare una Champions migliore. Non che ci voglia tanto, ma a livello di risultati, perché comunque è stato un girone molto difficile, avremo molta più esperienza, migliorarci in cambiato l'obiettivo e essere migliorarci sempre di più. Il fondo Iliott questo lo ha sempre fatto in tutti i suoi ambiti, ha sempre portato risultati. L'obiettivo di un fondo è portare sempre risultati. E arriveranno, ci vuole del tempo, nel calcio per costruire i cicli ci vuole del tempo. Il fondo Iliott sembra, mettendo tutta questa professionalità, managerialità all'interno del club, sembra avere questa voglia di avere sì la volontà un domani di cedere, di passare la mano. Ma nel mondo del calcio, anche se non sia un fondo, abbiamo visto che è difficile creare delle epoche come per Lusconi, ma serve sempre serietà, professionalità, lungimiranza. E il fondo Iliott questo ha sempre dimostrato di averlo. I risultati parlano chiaro, ha preso il Milan da una situazione disastrosa e lo sta riportando sempre più nelle zone nobili della classifica in Italia e aumenterà sempre di più la competitività all'estero. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiedete di mettere un mi piace, di condividerlo e di sicuro il canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.